Abbiamo iniziato una cavalcata dal festival dell'elettorato working class al 18 maggio dove abbiamo riproposto le idee che in realtà avevamo da diverso tempo, il sostegno al reddito. Il commissariamento e la legge regionale a febbraio-marzo sembravano cose fantascientifiche e oggi non sono cose reali ma non sono nemmeno più fantascientifiche perché la legge in discussione, il concetto di fabbrica socialmente integrata entra nel nuovereo del possibile perché sono consigli comunali che sono espressi a favore di questa idea e anche il commissariamento è oggi qualcosa che viene ritenuto come plausibile da un pezzo importante della politica che si sta semmai interrogando su come attuarlo tecnicamente.